Sul TOC d'inverno il sole non c'era. La gente era costretta a rientrare a Casso perché lassù cominciava a rivecare. Le rondine arrivavano a Casso a primavera e se ne andavano in autunno. Noi, donne, vecchi, bambini, con mucche, pecore, capre, a primavera da Casso andavamo sul TOC. Rientravamo a Casso per la festa di San Simone che era l'annuncio che sarebbe venuta la neve. Ogni anno la stessa vita, da Casso al TOC, dal TOC a Casso, come rondine. Proprio fuori in fondo a Ronc, il campo dove era mia nonna, c'era tutta una sabbia che andava giù così. A metà c'era un buco grande così che veniva fuori in una fontanella d'acqua. E noi andavamo giù per il sentiero in mezzo a tutto che franava e andavamo giù in questo posto per prendere l'acqua e portarla su in Casera. E un secchio volò giù nel Vaiont. Eh sì. E lei piangeva più della fontana. Era grande lei, eh. Io ero piccola ma lei era grande. Allora Barbatilio andò giù nel Vaiont. Dopo mezz'ora tornò con il secchio tutto tombolato. Beh, logica, l'aveva fatto cento metri. Si miso a batterlo come fosse un tamburo e lo risistemò. Alla fine lo riempì d'acqua. E ora basta piangere, disse Lisette. Altrimenti l'acqua nasce qui e non serve più andare a prenderla la sua gente. Era un buon uomo. 1672 Frana del Monte Salta Da Venezia arriva una commissione della Serenissima Repubblica. Vedono il disastro e quella povera gente alla quale la montagna ha senza pietà rubato anche i terreni. I sass delle morte ha letto tutta la frana che le viste dò da quel cerchio che si vede lassù. E le viste dò e io la sa il paese libero. Però dopo otto giorni il Gallo cantava ancora perché l'era che stava a stare. L'era ancora vivo Poretto. Nesta vivo il Gallo? Eh sì. Sotto? Sotto sì. Sarà anche una barzelletta comunque intanto la conta, eh. E io viste su da Venezia a vedere che l'era successo perché loro non sentì niente tutta notte. Si sveglia la mattina e vi nebbia. E noi avevamo sentito neanche un sasso muoversi. E io ero tutti là che dormia. E insomma, io partì da Venezia e viste su a vedere, no? E io guardavo qua, questa povera gente là e tutta che gli ha portato via, sti sasso qua, gli ha portato via tutti i terreni. E io volevo portarli fuori a Maniago. Vieni fuori con noi che vedo un terren che fai le case qua fuori. Io partì loro con i suoi badini, con i suoi... Tutti pronti ad andare fuori a vedere che roba che l'era che voleva dar. Insomma, l'era venuta fuori. Loro è stato là, gli ha guardato, gli ha fatto le soproe. E dopo un certo momento, che il pivè ce l'hanno qua, di nulla a fare per noi, gli hanno detto che tornò da casa nostra. Perché venivano fuori solo sassi? Sassi, po'. Tant'è vero che adesso l'hai, ma gredi diciamo. E loro gli ha detto bene, lasciando la loro staterà qua, noi tornò da casa nostra. E allora gli ha fatto il ponte per andare via sul tocco. Il ponte delle rive? Sì. Quello che si andava sempre a guardare noi, tra una fessura e l'altra, a una linea dell'acqua, alla jara che avevamo messo. E noi vediamo che l'andava dentro il fiume sotto, avevamo una paura di matti. In Salta sono salita anch'io, ma per tre sole estati, perché poi mi sono sposata. Ora in Salta vanno solo per fare escursioni. L'erba era molto sottile e morbida, e bisognava falciare tutto il giorno per fare un fascio di fieno, che alla sera era morbido come lana, profumato dai fiorellini di prato e dai gili selvatici, e dentro c'erano anche delle stelle alpine. Dallassù si vedevano le case di casso e il verde del piave che luccicava sotto le case di Longarone. In Salta c'erano anche dei prati dove si falciava più facilmente. Quei terreni erano di chi era salito prima degli altri, e si era accapparato il terreno mettendo i confini. Allora tutti i tocchetti così, se c'erano i tocchetti così, poi si tirano insieme, poi so che di sora, che di sora, le ha tutti ripiani, come scalini. Andava su, si processava di un pezzo, e mi sape questo, ti sape quel, ti sape l'altro, quel. I confini come li metteva? Ah li mettevano giù loro? E trova confini finché il volo, basta che vai su. Che tipo di confini? Che che trova sass, legni, quel che trova. C'era un segno che indicava qua? No ma dopo da qua giù, quando chi falciava l'erba, si vedeva tutti i segni, tutte le siede dei prati, e guai sbagliarsi perché da qua giù se vedeva se l'era storto. Ah capito. E lo ricriticava anche. Cioè se vedeva la linea del confine? Sì, sì, sì. Sì perché c'era chi falciava prima, chi falciava un po' dopo l'erba ricresceva e faceva il confine. Tutto il paese aveva un pezzo di terreno in salta. Eh sì, non so se l'era una persona o due che noi l'avevamo, sono tutti andati su da corsa per accapararselo. E dopo noi si venivano con la slitta la sera, carica di due fasi di Fien come si era abituati. E quando si arrivava a 500 metri dal paese, erano tutti i bambini pronti per saltare sulle slitte e fasse un giro in giosta. Appena arrivava la primavera tutti si mettevano in movimento. Le donne per boschi, campi e prati. Gli uomini per cantieri e dighe all'estero pur di trovare un lavoro fino a ottobre. Poi l'inverno, di nuovo a Casso dove avevano tutto ciò che fa felici le persone semplici, scrive umili e buone. Affetto, amore, amici, ricordi. A Casso le case sono costruite alte per via del poco terreno e con i tetti di pietra. Uno ci metteva quattro anni per prepararsi il tetto di pietra e si faceva aiutare da amici e parenti così le potevano fare alte il più possibile. Le casine, sa chi quelle le casine? Le latterie, sì. Ma a Casso ne erano 7-8 latterie. Sì. Sì. Come mai 7-8? Ogni casa aveva una vacca, minimo. E dopo che ne erano come i cani veri. E i vieni che ne aveva una ventina però. E allora, quando erano un gruppo di queste case, i fai una latteria. I fai magari due formette deformai e dopo... Si faceva il formaggio insieme in pratica. Sì, quei 3-4-5 che si metteva insieme e dopo se lo metteva via per l'inverno. E fare i conti con i grammi e cose dall'altro mondo. E che bisognava che avesse la testa per farlo. Allora era il segretario che è quello che fea i conti e dopo ci tocca a ti domani fare formaggio. No, Minò, l'ho fatto che l'altra settimana. Eh, ma stia fatta l'altro per forza? E insomma era tutta una storia così. Il burro lo vendeva. E veniva qua a Lungaron col burro e si solleva i viveri per pasta, zucchero, e quel che serviva. E il formaggio se lo metteva via per l'inverno. E se qualche donna poteva andare alla casina? Eh, allora fea il cambio. Allora quella andava a portargli le tami, andava a farciargli l'erba, e si rendeva così. Cioè uno scambio di giornate o di ore di lavoro? Sì, sì, sì. Proprio così. E anche se aveva a fare una casa, fea tutte le giornate, lo segnea e dopo in ultima ande che rivea il paguea, dopo che non rivea ande a rendigli le giornate. Ah, sì. Cioè restituiva in lavoro, in opere, insomma, ecco. Gli voleva quattro anni per fare il tetto di una casa, ed è per quello che le ha fatte tutte alte così. Quattro anni? Quattro anni per levare le lastre tutte e portarle in paese. E tocca farsi aiutare oggi. Le lastre quelle... Quelle dei tetti. Quelle dei tetti. Sì, sì, quelle dei tetti. Sì. E le cioleva dove le lastre? Eh, lo cioleva qua dentro, solo a codi sago. Sì. E lo portava fuori con le slitte, con il coccio, che le era una slitta, con le cose così grosse. Il coccio. Il coccio. Il coccio, le era una slitta grossa, forte, no? Corrisponde? No. No, corrisponde? Piatti perché queste lastre lo metteva solo così, no? E lo metteva così e poi tirava. E mi fa anche le fatiglie fenomenali. Le donne di casso lavoravano tanto con i familiari del marito. Aiutavano le cognate ad allevare i bambini, che non erano mai pochi. Davano una mano in tutto quello che potevano, sempre disponibili. Quando riuscivano a farsi una loro famiglia, andavano a vivere da soli con i loro bimbi, cercando di arrangiarsi al meglio. Erano felici, anche se poveri. I genitori potevano aiutare ben poco. Le pensioni non c'erano. La terra era povera e rendeva poco. La zia Lina sposò anche lei in tempo di guerra, con la solita dote, cioè due paia di lenzuola, che in tempo di guerra era difficile trovare. Fecero il pranzo sulla costa. Eh sì. Il mio zio Vittorio era tutto orgoglioso di vedere tanta gente a casa sua. Non l'era mai nessuno là. La zia Lina si riferì sulla costa con la cognata, la suocera e il mio zio. Tutto andò bene. Ma un giorno mia nonna, che era nel Ronc, Ronc-Toc. Ah, Ronc, sì, sul Toc. Era proprio di fronte alla... Ma lei era vicino, come da qua è la via, ancora più vicino. E non si notava la distanza. Mi nonna da Ronc la vede a Mesia, che la fea lassù, che la laurea l'orto, il giardino e così. E che lì, a un certo momento, la vede che la sceglie del gerlo e la cammina a Mesia. E dopo, mi nonna non l'ha più data di io, l'ha andata sulla spesa, chissà che. a un certo momento, la si gira fuori per il piano di Ronc, perché è un bel piano grande. Fuori in cima, l'ha spuntata la Mesia. L'ha avuto il più grande della mano. E la piccola del gerlo, del Darlindai. e la fa. Allora è la merina qua che arriva. Insomma, dopo l'ha arrivata, l'ha detto, che sei partita a questo tempo, la piove con i tosat, di notte, l'era scura quasi. E la ha detto, ti contemi dopo. Allora gli ha fatto mangiare tutti e dopo l'ha contato. Avelo con Bina che. E la aveva fatto i calzetti a Mesia. come chi fea che l'ha insegnato mare, no? E la invece, sua suocera, l'ha un po' più sbettica, e la diceva, che fea sempre osservazione a Mesia. Allora la diceva, a suo figlio, guarda qua che femmina che te ha. Perché la voleva che gli avesse fatti i tre trevesi, che fa una persona qua? Milano di fa, e così è la diceva, no? E allora Mesia rinno, la diceva, mi fa come che mi ha insegnato a memare. E allora lui, senza parlare tanto, ha passato il calzetto, appena finito, eh? E va fuori, dove c'è taglia sulle legne. Ha tagliato tutti i due i piedi, e dopo mi ha portato dentro. Adesso fai come che lo vuole memare, la diceva. Ah, buono, se lo vuoi così, la dice Mesia, la diceva, la diceva, la diceva, la diceva, e da lì la è partita, la è venuta a assomare. Sì, ma la diceva, la caglia, perché mi non aveva mai ragione. E diceva, te sei matta, non ti cammina da casa tua, pa' una bisbetica, una vecchia, torna via subito, domani a este qua mani, dove dormire, e dopo domani te parte, da nuovo. E la fate andare. Adesso non le andaria più, non si abbassaria più. Insomma, dopo i calcetti li ha messi su come chi lo fa a Mesia. Sì, è ben nuovo. Sentivo parlare piano della valanga in Val Formazza. Avevo appena 5 anni. Poi portarono l'elenco dei morti. Erano 11. 11, sì. Tutti, fra i 18 e i 20 anni, pieni di vita e di tanta voglia di lavorare. Tutte le mamme urlarono il nome del loro figlio. Mi pare ancora di sentirle. Piangevano tutti, madri, padri, fratelli, sorelle, nonne, nonni, fidanzati. La gioventù del Castle era. Era tutti quelli della Val Beluna qua, era tutti su a casa. Erano i martiri del lavoro. Sì. Come santi in cielo. Tutti i loro sogni erano finiti lì sotto quella candida neve, Da potete dirgli, Castle non meritava tanto dolore. No. No. con il tempo arriva la rassegnazione, restava il dolce ricordo dei loro volti belli e giovani e il dolore di tutti quelli che le conoscevano che le ricordano sempre. E dopo... me li ricordo anch'io, tutti quanti. Come era bello quel leggero fiocco di neve così bianco e soffice che scendeva come una bianca farfalla, volteggiandola nell'aria e che non fa male a nessuno. anche lui poteva essere parte di quella valanga assassina e crudele unito a tanti altri leggeri fiocchi tutti insieme involontariamente penso e mi dico come si fa a chiamare assassino un leggero fiocco di neve. E appunto. Bellissimo. Quando la casera di mio padre fece vedere le prime fessure misero subito le spie cioè i vetrini che ogni giorno si spaccavano e il terreno a fianco divideva le casere dalle stalle con un buco che ogni giorno diventava più grande. Dicevano non succede niente ma noi si vedeva la fessura sul prato che si faceva più grande e profonda finché quattro anni prima del Vaillant la casera di mio padre che si trovava sulla fessura crollò mentre il lago cominciava a crescere sul colomber mio padre disse il toc è andato perché la fessura saliva su per i prati alti. Lui pensava a tutti i sacrifici che aveva fatto per costruirla e alla pace che c'era e che non si trovava in nessun altro posto al mondo. Prati e boschi metà dei nostri beni erano sul toc. Ci appartenevano era roba nostra guadagnata con tanto sudore. Per le altre persone erano una casera e dei terreni. Per noi era una parte della nostra vita tutta la nostra gioventù i nostri ricordi i sacrifici fatti da tutti non solo da noi ma anche da quelli prima di noi. Per loro quelli della Sade e altri contava solo la diga più alta del mondo. Il Vaillant è la nostra croce era la nostra vita che se ne andava in nove minuti il 9 ottobre del 1963 e ciò